salve a tutti i miei cinefili ben trovati in questa nuova recensione che vi presento e oggi parliamo di un capolavoro assoluta storia del cinema e cioè il film del 1954 diretto e cosceneggiato dall'imperatore akira kurosawa e cioè sette samurai film veramente epocale che avevo provesso di recensire e di analizzare un po sul mio canale visto che è stata rilasciata pochi giorni l'edizione triplo disco blu ray dei sette samurai eccola qui che vi consiglio assolutamente di acquistare perché è praticamente la versione italiana nel senso commercializzata in italia del supporto del 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 master usato per per l'edizione criterion quindi davvero un ottimo lavoro l'edizione viene presentata in un triplo disco davvero ottimo ottima scelta nel primo disco troviamo la versione integrale del film di 207 minuti che peraltro la presenta già in dvd però qui troviamo anche la intract musicale tra primo e secondo tempo troviamo anche l'edizione italiana completamente doppiata col doppiaggio d'epoca di 130 minuti di due ore 10 che però rimase nella storia perché di fatto l'italia dagli anni 50 fino al 1980 ha visto solamente quella edizione nelle sale in televisione e fu un'edizione che lasciò a bocca aperta ai rispettatori perché kurosawa ha il pregio di costruire ogni inquadratura come se fosse epocale come se fosse l'inquadratura della vita e di conseguenza ogni fotogramma del film ha qualcosa di spettacolare che stordisce la vista che conquista e seduce l'emotività dello spettatore di conseguenza anche se manca un'ora di film il film riesce comunque ad essere fondamentale per lo spettatore dell'epoca ovviamente l'ora che manca però una volta che la vediamo reinserita nel film rimaniamo ancor più stupiti perché il film acquista una profondità incredibile una profondità tematica stilistica davvero notevole e pensiamo solamente ai primi piani del personaggio di della ragazza della della contadina che si innamora del giovane samurai katsushiro e quei primi piani che costarono quasi la vista all'attrice perché furono realizzati inquadrando e illuminando il volto della della ragazza con luci molto forti riflesse con gli specchi per dare allo sguardo una luminosità e un'intensità davvero inusitate e naturali insomma doveva splendere con lo sguardo ecco delle accortezze delle ricercatezze del genere senza contare appunto in generale la fotografia la composizione del quadro e la scelta delle assi di ripresa sono sempre geniali da parte di kurosawa quindi si capisce bene che anche un film come questo tagliuzzato di un'ora di fatto potesse suscitare entusiasmo nello spettatore dell'epoca ripeto 1954 il film esce a venezia dove ottiene il leone d'argento in un'annata un po scandalosa se andate a controllare chi vinse il leone d'oro invece grandi capolavori vincono il leone d'argento c'era anche mitsuguchi credo quell'anno in concorso ancora in concorso a venezia mitsuguchi riuscì ad affermarsi più e più volte c'era fellini in concorso e insomma grande 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 annata questo lo possiamo dire grande annata avevo vi avevo promesso che vi avrei parlato dei sette samurai quindi piano piano sul mio canale kurosawa si sta affermando e chissà insomma riusciremo a parlare forse di tutti e 30 i suoi capolavori certo non tutti ben distribuiti in italia quindi faccio anche una fatica poi a recuperare quei 5 6 titoli che mi mancano anzi forse ne mancano 7 perché davvero sono difficilmente reperibili e anche sulle piattaforme eccetera non è che kurosawa sia particolarmente gettonato quindi che ne so ad esempio ecco iniziamo a parlare dei sette samurai ad esempio si fa una certa fatica a recuperare non il precedente film rispetto ai sette samurai ma il film è girato diciamo così ancora prima del precedente perché prima dei sette samurai kurosawa ottiene grande successo con vivere del 1952 ma andiamo un attimo indietro spostiamoci al 1951 dopo rashomon kurosawa riesce non per la to film ma per la casa riproduzione oddio 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 per la casa riproduzione lascio kiku lascio kiku riesce a girare l'idiota tratto da dostojewski ripeto 1951 il film nella sua versione originale doveva durare 272 minuti cioè quattro ore e insomma e mezza ma in realtà venne poi tagliato dalla casa riproduzione prima a 182 minuti poi a 166 minuti senza il consenso del regista e il problema qual è è che tutto quello che fu tagliato cioè circa 110 minuti quasi due ore di girato furono tagliati di fatto il tagliato andò perso cioè kurosawa non lo conservò e questa è la grande differenza rispetto a ciò che cade invece con i sette samurai dove comunque abbiamo un film tagliato dalla casa riproduzione e quindi abbiamo quindi la ancora in questo caso l'onta della della delle forbici che accorciano il film perché anche i sette samurai superava i 200 minuti 207 furono tagliati tanti minuti la versione internazionale era di 160 minuti e però 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 kurosawa ebbe poi modo di custodire gli scarti e quindi poi quando kurosawa divenne kurosawa cioè divenne una sorta di mito vivente riuscì a reintegrare le parti tagliate quindi mentre nell'idiota secondo me altro capolavoro purtroppo distribuito in modo pessimo in italia difficilmente reperibile chi ha la raro video se la tenga stretta io purtroppo me la lascio sfuggire e quindi è una delle gravi mancanze della mia collezione dicevo a differenza dell'idiota in questo caso kurosawa riuscì a conservare il tagliato e poi a reintegrarlo diciamo così molti anni dopo da noi arrivò nel 1980 la versione di 207 minuti e comunque ha circolato la versione di 207 minuti certo si trova anche quella di 180 minuti che però già è tanto 180 minuti quindi mancano solamente manca meno di manca meno di mezz'ora quindi un film amartoriato che poi però è diventato un film di culto un in capolavoro un film immortale un film eterno anche nella sua e soprattutto nella sua versione di 207 minuti 7 samurai che 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 non so se avete ascoltato bene le date 51 l'idiota 52 vivere e con cui kurosawa conquista grande importanza come regista e collabora con i due sceneggiatori shinobu ashimoto e ideonu oguni e poi non so se avete sentito i sette samurai 1954 non so se avete colto che c'è un vuoto di un anno perché e qui arriviamo al secondo elemento perché per girare i sette samurai kurosawa impiegò dieci mesi cioè dal maggio del 53 al marzo del 54 dieci mesi ok con una sorta di odissea che forse potrebbe rivaleggiare con quella di apocalips now mutatis mutandis infatti kurosawa volle girare en plein air all'aria aperta non negli studios anche poi se alcune scene furono girare negli studios perché davvero diventava impossibile la cosa e il set naturale all'aria aperta fu martoriato dalle calamità atmosferiche molto spesso la pioggia che vediamo è vera addirittura con delle temperature che scesero moltissimo perché il piano di lavorazione più volte saltò e quindi scene che si dovevano girare d'estate furono girate in parte d'inverno gli abiti dovevano essere gli stessi e quindi per la continuità anche perché la vicenda si svolge tutta nell'arco di pochi giorni quindi non è che c'era la possibilità di lavorare sui costumi di conseguenza ad esempio il combattimento finale il terzo assalto dei briganti nel villaggio fu girato credo febbraio non vorrei dire oggi gennaio febbraio comunque in inverno e gli attori e lo stesso regista soffrirono e patirono incredibilmente il freddo addirittura il fango ghiacciò addirittura le temperature scesero in modo incredibile quindi recitare nell'acqua sotto l'acqua oppure nell'acqua a quelle temperature era difficilissimo e lo stesso toshiro mifune dichiarò che fu una delle esperienze più difficili della sua carriera strepidosa di attore attenzione bene quindi davvero un film che da un punto di vista realizzativo costò tantissimo a tutta la troupe costò tantissimo a tutti i componenti del cast quindi un film da questo punto di vista davvero straordinario pensare che e pensare che la sceneggiatura fu ultimata in 35 giorni quindi abbiamo pochissimo tempo di fatto per la stesura da parte dei tre sceneggiatori che lavoravano in modo molto serrato anche perché quando kurosawa si presentò ai suoi due colleghi con le idee ben chiare con i suoi quaderni sui quaderni c'era descritto praticamente tutto perché di fatto i sette samurai è la terza idea che viene a kurosawa perché le prime due idee cioè del film da realizzare sui samurai perché bisognava realizzare un film sui samurai un film in costume un film di spada e questi erano gesti politici assolutamente rivoluzionari per un cineasta giapponese che stava rispolverando un genere che era proibito dalla presenza americana fino al 52 abbiamo detto con la shomon in giappone erano film che non si dovevano fare perché andavano a risvegliare l'orgoglio nazionale identitario del giappone dando una visione eroica e romantica e celebrativa del tempo perduto delle radici giapponesi della storia giapponese quindi era un genere molto osteggiato che era caduto in disgrazia e che kurosawa e non solo kurosawa stava riportando in auge quei sette samurai davvero ci fu il boom più che corra shomon quindi voleva fare una storia di samurai di cappe spada molto a western quindi kurosawa era influenzato dal western attenzione bene quindi di fatto le influenze che poi questo film eserciterà sul western sono in realtà dovute al fatto che già kurosawa aveva una intenzione e una volontà di rifarsi a ford a hoax che sono i tuoi modelli se così vogliamo dire amava molto ombre rossa amava molto stile infernale quindi kurosawa in qualche modo si rifaceva già a quel background dicevo quindi kurosawa praticamente realizzò quella che è la terza sua idea con i sette samurai perché la prima idea che avevano i sceneggiatori era quella di realizzare un film che parlava di una giornata di un samurai che usciva di casa poi tornava a casa dopo la sua giornata tipo e a causa di un motivo di disonore praticava il seppuku il suicidio del samurai idea cassata via poi la seconda idea era un cappe spada sì ma un film di spade storico sì ma che doveva culminare in un duello quindi una rivalità tra samurai grosso modo ma anche questa idea fu bocciata fino a quando arrivò invece l'idea giusta ovvero peraltro idea che da quello che mi risulta fu shinobu ashimoto un dei tre sceneggiatori a carpire ad avere a insomma in qualche modo intuire che potesse essere valida ascoltando leggendo quello che capitava nel periodo delle guerre civili tra il quindicesimo e sedicesimo secolo infatti il giappone attraverso la fase di assoluto disordine di assoluta tragedia quasi perché praticamente il sistema feudale è estremamente quasi sgretolato l'equilibrio sociale è sgretolato l'imperatore e i poteri centrali hanno pochissima presa sul territorio hanno pochissima autorità sul territorio e quindi praticamente c'è il brigantaggio ci sono i contadini allo sbando disperati che chiedono aiuto ai samurai altrettanto allo sbando e quindi praticamente l'idea giusta fu quella di fotografare di rappresentare proprio una di quelle possibili situazioni che si potevano realizzare nel 500 il film è ambientato nella seconda metà del quindi del 500 cioè del sedicesimo secolo quindi praticamente dopo le le guerre civili cosa facevano i samurai in questa in questo periodo samurai disperati i samurai allo sbando i samurai senza nessuna risorsa si mettevano al servizio dei villaggi in cambio di vitto e alloggio il samurai di turno poteva prestare poteva tornare a quello che era la sua mansione originaria e sì perché che cosa significa la parola samurai significa guardia fondamentalmente e quindi il samurai faceva la guardia ai villaggi poteva farla guardia ai villaggi per una notte per due notti per tre notti per una settimana in cambio di vitto e alloggio perché appunto anche i samurai erano allo sbando allo sbando questa fu l'idea di partenza e allora il buon akira kurosawa parte con il suo lavoro scrivendo sui suoi quaderni peraltro conservati al museo di kurosawa in giappone scrivendo sui suoi quaderni una dettagliata descrizione delle caratteristiche dei sette samurai chi sono i sette samurai anzi sei più uno sono kanbei il saggio autorevole samurai il gesto di kanbei quando si rasa i capelli stanno crescendo voi sapete che il cinema è fatto anche di gesti che diventano memorabili no? il nostro yang bel mondo chi volete voi abbiamo nominato il braccio vi ricontate il braccio di sentire dei selvaggi di john wayne ecco kanbei fa così saggio autorevole equilibrato samurai e quindi kurosawa descrive le sue caratteristiche peraltro kanbei sarà interpretato all'inizio deve essere interpretato da toshiro mifune poi in realtà sarà interpretato da takashi shimura cioè il protagonista del precedente film di kurosawa cioè di vivere poi gorobei cavalleresco poi shikiroji il mite shikiroji e chaki il pacifico burlone chiuso l'arma letale praticamente il samurai che è ispirato a un reale samurai realmente esistito che il protagonista della saga samurai che forse vi ho presentato in qualche aggiornamento film che è uscito sempre nel 60 nel 60 uscì sì nel 60 nel 54 nel 54 la stessa casa di produzione rilasciò centinaia di film tra cui i sette samurai godzilla e appunto il film su questo famoso samurai che furono tre clamorosi successi poi ce ne furono tantissimi altri e poi katsushiro il giovane figlio di nobili che sogna di diventare samurai guardando quello che fa kanbei a inizio del film e l'anello di congiunzione questa è l'idea geniale che ebbero gli sceneggiatori inserire il settimo samurai che nella bandiera sarebbe il triangolo no ricordate la bandiera del villaggio sei cerchi rappresentano i samurai sotto troviamo una specie di capanna con due strisce che rappresentano i contadini in mezzo c'è il triangolo che unisce il mondo dei samurai a quello dei contadini e chi è cazzo è katsushio che è il figlio di un contadino è il figlio orfano di contadini che vuole diventare un samurai burlone cialtrone scavezzacollo irascibile furibondo indomabile eppure dotato di grandissima personalità e soprattutto è il vero diventerà il vero protagonista della vicenda il nostro katsushio cioè toshiro mifune quindi arriva dai suoi sceneggiatori con i suoi quadernini a kiro kurosawa e in 35 giorni lui insieme a shinobu ashimoto buttano giù la sceneggiatura ogni pagina che scrivono ogni scena che scrivono la passano a ideo oguni che praticamente non scriveva nulla controllava diceva sì sì va bene no riscriviamo non va bene quindi è un lavoro a tre estremamente affiatato estremamente efficace in 35 giorni abbiamo lo script di questo capolavoro assoluto della storia del cinema i sette samurai benissimo iniziando le riprese vi ho detto funestate da ogni tipo di calamità durano dieci mesi dovevano durare quattro mi sembra quattro sì dovevano durare molto di meno praticamente nasce la sto dicendo troppe volte praticamente comunque nasce la leggenda di kurosawa spendaccione e sì perché kurosawa di fatto nei suoi film almeno fino a questo è il decimo film di kurosawa non mi sembra che abbia fatto film esosi e invece con i sette samurai si guadagna la fama di spendazione perché a causa di eventi che non dipendono dalla sua volontà automaticamente l'esborso dei produttori sale alle stelle alcune scene si devono rigerare all'interno dopo che all'esterno è andato tutto male il mulino quasi quasi si incendia totalmente e bisogna rifarlo quasi quasi da capo la famosa scena dell'incendio del mulino insomma avete capito che fu una vera disavventura fu una vera odissea la realizzazione di questo capolavoro della storia del cinema ok comunque alla fine arriva ma i produttori per tra virgolette vendicarsi su kurosawa che aveva in qualche modo aveva preteso di girare tutto quello che aveva sul copione e soprattutto in qualche modo teneva per la gola i produttori perché li teneva per la gola perché in realtà l'ultima scena l'ultimo combattimento che fu girato in un mese circa comunque in tanti giorni era quella scena che kurosawa girò alla fine e quindi questo è il punto che quando i produttori stavano per tirare fuori kurosawa dal progetto si resero conto che in mano non avevano nulla perché c'era un grandissimo film grandissimo nel senso lunghissimo ma senza finale quindi togliere kurosawa non è come adesso che insomma succede di tutto con i registi che vengono tolti di mezzo anche quasi alla fine della produzione lì dai produttori fu percepito come un rischio togliere kurosawa di mezzo quando mancava il blocco finale della terza battaglia tra i samurai e i briganti ormai ridotti a 13 briganti l'ultimo giorno di combattimento ok quindi vi devono dare la possibilità di arrivare alla fine delle riprese quindi kurosawa intelligentemente aveva lasciato alla fine il blocco più importante del film e di conseguenza kurosawa riesce ad arrivare ai produttori per tra virgolette vendicarsi distribuirlo all'estero una versione fortemente tagliata ed è poi il resto è storia è quello che vi ho raccontato la versione poi integrale la vedremo solamente molti anni dopo perché kurosawa non gettò via i pezzi di pellicola rimasti sul pavimento della moviola kurosawa ebbe l'incarico di sforbiciare il suo film e ridurlo a 160 minuti che è poi l'edizione che vince il leone d'argento e che riceve due candidature agli oscar purtroppo senza vincere kurosawa già aveva vinto per rasciomo poi vincerà ancora alla carriera e comunque avrà film plurinominati eccetera eccetera anzi lo vincerà anche con del susa là quindi vincerà ancora ok ma cerchiamo di capire che cos'è i sette samurai è un'opera ripeto pericolosa a livello politico per il per come il giappone è uscito dalla dominazione statunitense è un'opera di svolta per la storia del cinema giapponese anche per la sua riconoscibilità all'estero è un'opera di svolta nel bene e nel male perché poi che cosa succede che poi all'estero lo spettatore identifica il giappone con i sette samurai e quindi non percepisce com'è il giappone degli anni 50 e 60 peraltro tralascio la questione successo perché i sette samurai ebbero un successo strepitoso a livello poi di diritti kurosawa riuscirà anche in questo caso a guadagnarci ma meno di quello che poi guadagnerà da sergio leone con la sfida del samurai ricopiato da leone sotto forma di per un pugno di dollari qui invece furono gli americani a comprare i diritti dei sette samurai per fare l'adattamento di magnifici sette che fu un adattamento se vogliamo fatto sulla scena di quello che gli americani avevano visto nella versione internazionale cosa mancava in questa versione internazionale che stiamo dicendo versione internazionale versione internazionale versione internazionale mancano i contadini essi cari miei cari signori mancano i contadini cioè manca uno dei poli della dialettica del film perché il film si basa su questa dialettica contadini e samurai due mondi due classi sociali che mai avevano comunicato tra di loro che si odiavano ferocemente anche nel periodo in cui il film è ambientato 1560 80 anche in quel periodo si odiano le due classi sociali e invece devono collaborare devono avvicinarsi tra di loro cioè il contadino deve fidarsi del samurai il samurai deve capire con la compassione il valore fondamentale del film è la compassione deve capire l'etica del contadino fatta di sacrificio e soprattutto di consapevolezza che la vita è necessita di pace necessita di equilibrio con la natura e di pazienza e di lavoro ed è ciclica invece per il samurai la vita è guerra lotta trasformazione onore individualismo quindi c'è una sorta di collisione fra questi due universi che devono in qualche modo incontrarsi lo possono fare perché in mezzo c'è kikuchio c'è toshiro mifune figlio di contadini o rimasto orfano che vuole diventare un samurai e riuscirà con la sua personalità a far capire ai contadini che c'è del buono nei samurai ai samurai che c'è dell'onore nei contadini e quindi i due mondi si avvicinano questa è l'essenza del film se il film si riduce a villaggio minacciato dai briganti contadini chiamano samurai samurai addestrano i contadini e difendono il villaggio è ovvio che rimane un grandissimo film una grandissima epopea una grandissima avventura un grandissimo spettacolo perché poi ha delle scene girate in modo magniloquente affascinante avvolgente con dei personaggi scritti benissimo peraltro nella versione tagliata tre dei sette samurai sono molto sacrificati al montaggio però capiamo che è un altro film capiamo che non è il film concepito da akira kurosawa cioè non è il film che si basa sul rapporto fra questi due mondi che devono trovare un punto di contatto quindi il film ha tutta una prima parte direi ecco facciamo per semplificare diciamo che è diviso in due grandissimi blocchi primo tempo e secondo tempo entrambi i blocchi si concludono con una battuta di kanbei il primo blocco si conclude con la battuta di kanbei che dice che bisogna fare dei sacrifici per resistere collettivamente e solamente combattere per una causa comune può salvare il singolo non si può combattere per il singolo kanbei sta facendo questo discorso perché tre case del villaggio sono rimaste fuori dalle fortificazioni e non possono essere protette quelle case quindi posso i briganti sicuramente le distruggeranno ovviamente gli abitanti della casa vengono all'interno del villaggio per essere difesi ma quelle case devono essere sacrificate non si può spezzare l'unione per difendere una casa bisogna restare uniti solo così il singolo trova la forza quindi fa questo discorso sulla forza del singolo che consiste nella forza del gruppo e poi alla fine invece kanbei farà dirà la sua famosa battuta che i contadini hanno vinto perché loro sono coloro che costruiscono sulla pace non vivono in funzione della guerra della difesa della minaccia dell'onore dello scontro delle armi vivono in funzione e quindi per loro la guerra è stata una transizione è stata un mezzo per ottenere la stabilità che serve a produrre il riso l'orzo il raccolto e la vita continua e la natura continua i contadini hanno vinto quindi il film ha questi due macro segmenti che si concludono con due battute che forniscono una ottima chiave di interpretazione dei due segmenti in questione e dell'intero film collettività e differenza tra due mondi che non troveranno mai una unione vera kanbei però è cambiato kanbei sa che dentro di sé ha abbracciato una volta tanto una causa che ha portato un esito positivo cioè la compassione cioè lottare per chi e qua devo prendere le battute del remake americano perdonatemi per farvi capire una causa di coloro che hanno dato tutto non tanto tutto cioè il mangiare il cibo ecco sono cose che noi nella versione tagliata questo aspetto del dare tutto non si capisce perché vengono a mancare dei segmenti fondamentali credo addirittura la scena in cui il riso rovesciato dall'orcio viene raccolto per terra chicco dopo chicco perché per loro il riso è tutto il miglio significa meno di sopravvivere mangiare il miglio meno di essere essere umani mangiare il miglio per i contadini e quindi c'è la famosa scena in cui si raccolgono i vari chicchi uno per uno e ovviamente la cosa interessante è che tutti i personaggi tutti i sette samurai conoscono una forma di evoluzione di comprensione di compassione di vicinanza al diverso all'altro e infatti anche il giovane katsushiro che si innamorerà di una figlia di un contadino lui che è un figlio di ricchi capisce l'importanza del riso da raccogliere chicco dopo chicco e ci saranno contadini che si apriranno al mondo dei samurai perché i contadini sono molto sospettosi nei confronti dei samurai perché ovviamente chi non conosce la storia giapponese non coglie tutto lo scetticismo che ha legge nel mondo della comunità dei contadini perché i contadini hanno sofferto le pene di inferno a causa delle vessazioni dei samurai per i secoli precedenti e questo lo dicevano katsushiro comunque lo dice lo dice scusate kikuchio cioè toshiro mifuna lo dice con delle toni con dei toni molto aggressivi perché loro sono così perché loro sono così cioè fa nascere nei samurai la consapevolezza che in realtà i contadini sono così sospettosi tengono chiuse le donne hanno paura che i samurai approfittino della situazione in cui si trovano rovinando le famiglie rovinando la virtù delle contadine e invece c'è un sentimento vero che nasce fra katsushiro e la giovane shino che viene dal padre travestita tra virgolette fatta passare da maschio no e quindi ecco il personaggio centrale di toshiro mifune che fa capire il background storico che c'è il motivo dell'ostilità che c'è tra i due mondi che tranno che stanno trovando un dialogo tra di loro è più importante il dialogo dello scontro con i briganti che però rimane epocale allora il film peraltro si apre e si chiude con lo stesso tipo di inquadratura perché sia all'inizio che alla fine abbiamo l'orizzonte kurosawa e john ford sono i più grandi registi di orizzonti cioè come inquadrano l'orizzonte loro non li ha inquadrato non l'ha inquadrato più nessuno dall'orizzonte emergono queste figure spettrali che sono i briganti 40 briganti sembrano le valchiri papaparapapa quindi escono dall'orizzonte cavalcano e il rumore dei cavalli è fondamentale perché è dal rumore dei cavalli che i contadini cominciano a tremare in quanto sono arrivando i briganti sembrano delle figure spettrali l'opera inizia quasi come se fosse un incubo un sogno quasi emergono dall'inferno quasi emergono dall'inferno vengono dalle viscere della terra e il capo di questi briganti c'ha le corna c'ha un occhio solo è un essere mostruoso se avete fatto caso c'ha l'elmo con le corna c'ha la benda sull'occhio è un essere mostruoso mi fistoferico vogliono assalire il villaggio però aspettano il raccolto perché l'hanno già assalito tempo prima quindi in quattro stacchi di montaggio kurosawa ha già creato la condizione del film peraltro il film si doveva aprire con una scena di combattimento di assalto dei briganti a un altro villaggio però kurosawa capì che un film del genere non poteva iniziare con una sorta di scena epocale e poi il ritmo si smorzava doveva iniziare con un ritmo lento e piano piano come una sinfonia il film sarebbe poi aumentato nel ritmo ovviamente il finale richiama l'inizio perché anche nel finale le quattro tombe si stagliano praticamente contro ancora una volta il cielo meraviglioso che a kurosawa sa sempre inquadrare ancora una volta sulla linea dell'orizzonte ancora una volta quindi in un'inquadratura che quasi in modo mistico collega l'aldiquà con l'aldilà però mentre nel caso dell'inizio c'era una sorta di venuta dal mondo infernale di questi demoni allegoricamente parlando adesso invece c'è quasi un rimando a una dimensione spirituale ma non è solo questo il punto perché la dimensione spirituale appartiene al samurai in quanto cultore della religione di buddha e una sceta e questa presenza della dell'aspetto quasi mistico del combattimento è incarnato perfettamente dal formidabile spadaccino chiuso che è appunto con la spada capace di incontrare l'assoluto in un qualche modo è taciturno sembra implacabile ma è implacabile ma un cuore d'oro è molto nobile si sacrifica ama il sacrificio scopre la compassione anche lui tutti e sei samurai scoprono la compassione fanno quello che fanno per compassione aderendo ad una causa che sembra senza guadagno scoprendo una nuova dimensione esistenziale delle loro vite e questo rende il film meravigliosamente stratificato a livello tematico e concettuale ma mi piace sottolineare come come le sepolture siano così evidentemente costruite con tumuli di terra quindi sono si vede chiaramente che c'è il samurai nella terra anche perché la spada è conficcata nella terra e perché mi piace evidenziare questo aspetto perché la terra rappresenta il mondo dei contadini i samurai sono invece come il vento e infatti noi sappiamo perfettamente che ecco immaginiamo il vento spira in questo film in modo mirabile però è impetuoso spesso e volentieri in circostanze ben precise penso alla scena iniziale in cui kanbei compie il suo primo gesto eroico tra virgolette per salvare il bambino tenuto in ostaggio dal ladrone soffia il vento su questi samurai perché il vento sono questi samurai samurai sono come il vento portati da una parte dall'altra impetuosi e indomabili ok ci siamo invece i contadini sono la terra la terra che rimane la terra che bisogna coltivare la terra che diventa fango che diventa gelo che diventa dura che poi può essere morbida che può dare la vita che però ingloba e accoglie la morte dei samurai con la spada ripeto conficcata in modo così magistrale i sette samurai che è un film che vive di una messa in scena praticamente impeccabile kurosawa si è praticamente superato in questo film e vabbè poi si risupererà tante volte dopo i sette samurai perché i capolavori nella filmografia di akira kurosawa non si contano sono davvero numerosissimi fino a fine carriera rhapsody d'agosto e madatai oso sono film eccezionali sogni un altro mezzo capolavoro quindi voglio dire anche senza contare il kurosawa urbano perché adesso noi stiamo parlando del kurosawa dei samurai con raschomon feudale in costume ma il kurosawa di angelo briaco di vivere di degli altri film insomma di ambientazione anatomia di un ravimento non è non è da meno però ripeto è un film che vive questi sette samurai di grande studiata calcolata magniloquenza e messa in scena che deve lasciare in qualche modo senza fiato sono d'accordo però 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 c'è un però è un film che sa costruire come la tradizione giapponese vuole e innanzitutto si sa slegare dal teatro kabuki questa cosa l'ho detta pur essendo cappa e spada pur essendo samurai pur essendo dramma storico si sa slegare dal teatro kabuki questa era già un ulteriore rivoluzione nel nel genere nipponico no però dicevo sa anche evocare qualcosa che avviene fuori campo è un film che vive molto di fuori campo penso alla morte del primo samurai peraltro che noi non vediamo e che era quel samurai burlone simpatico e i cia chi mi sembra il nome ma potrei sbagliare che doveva regalare ironia divertimento leggerezza è il primo a morire è il primo a morire nell'attacco al come si dice nell'attacco alla roccaforte al quartier generale dei briganti dove sono tenute in ostaggio le donne tra cui la moglie di un contadino non ho sottolineato a sofficienza che anche i contadini scoprono l'onore e scoprono la dignità delle armi e scoprono l'etica del combattimento quindi non c'è solamente un avvicinamento dei samurai ai contadini ma anche dei cantonini ai samurai e anche scoprono l'eroismo in qualche modo a volte in modo beffardo con delle morti che non ci aspettiamo nel senso che avvengono quando magari il contadino crede di stare al sicuro ecco penso all'amico di chi cuccio perché chi cuccio ha dei forti legami con quei contadini che meraviglia la scena in cui chi cuccio salva il bambino dal il bambino dalle fiamme e grida questo sono io che questo sono io cioè davvero scopriamo tutto il background emotivo di chi cuccio nome femminile che cuccio viene anche un po preso in giro perché c'ha questo nome che significa oddio me l'avevo segnalato qualche parte crisantemo non mi ricordo crisantemo oddio non mi sovviene comunque ha un nome femminile perché peraltro non è il suo crisantemo di mille generazioni non è cioè lui non ricorda nulla di sé neanche il suo nome forse non ha nome e qui entra a gamba tesa il grande kurosawa con delle tematiche che gli stanno a cuore e che gli staranno sempre a cuore nel corso della sua filmografia ciò quella dell'identità l'identità è qualcosa di aleatorio l'identità è qualcosa di inconsistente eppure diventa un fardello eppure diventa un condizionamento che meraviglia questa tragica ambivalenza dell'identità chi cuccio vuole essere un nobile ha rubato persino l'albero genealogico e vuole ecco dice io sono questo cioè il nome scritto solo che non sa leggere quindi non capisce che se lui fosse veramente quello che indica dovrebbe avere 10 anni 13 anni che poi c'è una discrepanza dei sottotitoli io non conosco il giapponese quello che leggo nei libri su kurosawa insomma dovrebbe avere 10 però io a sottotitolo ho letto 13 vabbè comunque dovrebbe essere un bambino in realtà e lì nasce la battuta e lì nasce l'ulteriore presa in giro ci siamo quindi la stessa cosa avviene per la contadina che si finge maschio essere una donna per lei è pericolosissimo però lei si sente una donna e vuole in realtà trovare la sua identità come donna stessa cosa il caro samurai giovane katsushiro che appunto è alla ricerca della sua identità come uomo e infatti poi diventa uomo attenzione diventa uomo tra il secondo e il terzo giorno di combattimento giace con la ragazza voi avete presente la scena sicuramente i due innamorati sono costoro ok perfetto giace con lei lo prendono in giro perché è diventato uomo quindi c'è questo cameratismo molto fordiano in kurosawa amicizia virile e quant'altro ma c'è anche poi la scoperta della morte la morte certo l'ha conosciuta anche nei giorni precedenti perché l'ha vista in faccia però il terzo giorno la deve praticare quasi singolarmente individualmente quindi come in kubrick si matura confrontandosi con il sangue versato con le proprie mani e quindi la acquisizione del codice d'onore del bushido passa attraverso questi sacrifici queste tappe ineluttabili e che non possono essere evitate e quindi anche se il codice dell'onore non basta ai samurai non basta più perché li ha portati al fallimento li ha portati all'amarezza li ha portati all'inquietudine devono scoprire la nuova strada cioè non basta il riscatto di un kanbei che ha sempre perso e cerca finalmente la vittoria ci vuole la compassione cioè una dimensione etica che non apparteneva al samurai di per sé e che adesso viene scoperto cioè aderire ad una causa che è giusta in cambio di qualcosa di prezioso che loro non calcolavano fosse così prezioso perché non è prezioso in quanto a valore la cosa che viene loro data il vitto e alloggio è prezioso in quanto implica la rinuncia di un grande bene da parte dei contadini che quello hanno da offrire hanno tutto e lo danno completamente cioè danno tutto quello che hanno questo da valore al riso non il valore quindi le offerte i beni hanno valore in base a il sostrato etico su cui poggia il loro la loro offerta non hanno valore di per sé e questa è un'altra grande scoperta che fanno i samurai perfetto kanbei stratega capisce perfettamente quanti samurai ci servono il suo contrattare bellissimo no il contrattare di kanbei che sarebbe il vecchio saggio capo del villaggio la sua statura morale e la sua personalità e tutto quello che ruota attorno a lui è stato tagliato nella versione di 130 minuti cioè il primo atto è diventato qualcosa di risibile invece il primo atto è fondamentale perché vediamo i contadini che vanno in città i contadini che falliscono nella loro ricerca i contadini che sono umiliati i contadini che sono vessati i contadini che devono rinunciare tutte queste cose non le vediamo nella versione tagliata quindi non riusciamo a capire che in realtà il film ruota anche attorno ai contadini oltre che i samurai quindi è fondamentale vedere la versione di tre ore e venti tre ore e mezzo anzi quindi di 207 minuti è fondamentale secondo me però con una colonna sonora non lo sto neanche a dire poi la leggenda vuole che l'autore delle musiche del film avesse preparato 7 8 brani musicali cioè fumio ayasaka e uno l'aveva gettato nel cestino e ha fatti sentire tutti a kurosawa kurosawa li ha bocciati tutti lui disperato ripresa dal cestino lo spartito gettato e poi kurosawa accettò questa marcetta con le trombe che ti entra dentro e non esce più che sentiamo con kanbei la prima volta ma la sentiamo quando il fotogramma con la camminata di kanbei si allarga e diventa da uno diventano tanti che lo seguono per motivi diversi contadini e i due diciamo così katsushiro e kikuchio lo seguono per motivi diversi entrambi affascinati dal mondo dei samurai come poi saranno da al punto il grande formidabile spadaccino chiuso la cui morte ovviamente diventa un gesto di assoluta tragedia per anche per kikuchio come muoiono ci arriviamo dopo ci arriviamo dopo in realtà a chiuso e kikuchio come muoiono perché quella la morte è fondamentale prima di arrivare alla morte voglio però completare gli elementi perché io ho parlato del vento e della terra mi mancano l'acqua e il fuoco il cinema di kurosawa non si può comprendere se non osserviamo come mette in scena e come utilizza gli elementi quindi utilizza tutti e quattro in modo stratosferico cioè si potrebbe fare una gerarchia per gioco dei film di kurosawa vedendo quanto peso specifico hanno gli elementi più questi elementi ingombrano il fotogramma e si stagliano a livello narrativo come parte integrante della storia più il cinema di kurosawa tocca dette inusitate vento e terra l'abbiamo detto manca l'acqua vabbè la pioggia in questo film è uno dei protagonisti del film john ford vabbè ce l'ha detto da chi al maestro kurosawa lei deve amare molto la pioggia e kurosawa john ford lei deve aver visto con molta attenzione i miei film queste sono le parole che i due maestri si sono scambiati quando si sono incontrati benissimo la pioggia che diventa apocalittica la pioggia che diventa catartica la pioggia che diventa scontro con la natura ma anche allegoria dell'impossibilità di trionfare realmente contro forze soverchianti e quindi l'affermazione della propria della propria forza non sarà mai totale la forza che ricorda ai samurai ai contadini sempre che sono esseri umani cioè la pioggia è usata a 360 gradi la pioggia che trasforma la terra in fango nel quale si sprofonda nel quale si affonda la pioggia che sconvolge i corpi che sono quindi costretti a combattere su più livelli su più piani la pioggia quindi che travolge vite esistenze destini e condizioni praticamente ok e il fuoco qui poi come terra e vento entrano in collisione in alcune scene meravigliose dove ci sono queste spire di vento che trascinano la terra in aria io non so quanto è studiata questa cosa però io l'ho trovata geniale così nella famosa scena del terzo giorno di combattimento che è l'ultimo atto del film troviamo il falò spento il falò che è stato acceso di notte che viene spento dal dall'arrivo di questa pioggia mattutina di questa pioggia mattutina e che appunto imperverserà poi durante tutta la battaglia conclusiva il fuoco della passione e quindi il fuoco il fuoco della passione il fuoco della distruzione quindi anche il fuoco ha dentro di sé un'ambivalenza perché distrugge il mulino distrugge la la come si dice la casa dove si rifugiano i briganti scene difficilissime da girare peraltro con questo fuoco che veramente distrusse il set e poi il fuoco che abbiamo anche che brucia tra i due innamorati giovani e quando poi consumano la loro notte d'amore attraverso le fessure della capanna nella quale si sono rifugiati penetrano le luci della fiamma che sono quindi cangianti e in perenne movimento sui corpi come sui corpi che quindi sono animati da queste ombre fluttuanti delle fiamme e quindi è la passione che stava ardendo tra di loro nella scena precedente quando stavano fuori dalla capanna e il fuoco stava in mezzo ai due attori con una profondità di campo davvero magistrale no mi andava di stavo un attimo facendo riferimento all'importanza che anche i quadri hanno come fonte di ispirazione per kurosawa anche quello ci sarebbe un capitolo che non finisce mai perché i banditi e le donne cioè i corpi nudi che troviamo nella tana dei banditi quando arrivano i samurai contadini a fare una sorta di sortita notturna queste inquadrature sono caravaggesche davvero lì kurosawa si supera anche in quel caso c'è la sortita notturna come insomma da topos dell'epica la sortita notturna è uno dei cliché dell'epica non so se orientale ma sicuramente occidentale da l'iliade decimo canto la sortita di odisseo e di omede in giù e oriola e niso e chi ne ha più ne metta quindi la storia notturna è proprio un cliché dell'epica quindi il fuoco ma mi ero dimenticato il mulino com'è bella la presentazione del saggio del villaggio il saggio del villaggio che viene presentato con questi con questi campi fissi sul mulino sempre più ravvicinati non zoom non carrello ma ta 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 macchina da presa in tre posizioni sempre più vicine con il con il mulino sempre più grande il mulino che è la ragione di vita perché trasforma i frutti della terra in cibo quindi come il saggio trasforma la saggezza e l'esperienza in regole e quindi è meraviglioso che nel luogo della trasformazione ci sia il saggio che va consultato sul perché e per come concludo questo brevissimo viaggio dentro i sette samurai capolavoro assoluto della storia del cinema perfetto in ogni fotogramma dall'inizio alla fine 207 minuti di impeccabile perfezione l'ho rivista l'altra notte non riuscivo a chiudere occhio sono state tre ore e mezza sono volate nonostante fosse notte fonda e fosse stremato la morte concludiamo con la morte dei due samurai dell'ultimo giorno quindi praticamente se ne erano salvati cinque e invece ahimè i due a cui ci siamo affezionati di più insieme a cambei forse non lo so e cioè il maestro d'armi il maestro d'armi chiuso e chi cuccio ecco vi faccio vedere il maestro d'armi è questo qui dove sta no ve lo ricordate sì che poi è diverso anche da come vestito quindi lo riconosciamo subito e toshiromifune eccolo qui loro come muoiono muoiono con l'archibugio qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle armi utilizzate da i briganti hanno tre fucili hanno tre archibugi quindi la loro malvagità è sottolineata dalla scorrettezza di questa arma che è malvagia perché non ha senso dell'onore cioè è un'arma meccanica moderna che permette di uccidere a distanza senza onore le persone viceversa la spada e anche l'arco e le frecce hanno la dignità dentro di perché con la spada ti devi avvicinare al nemico e si combatte ad armi pari e prevale il migliore anche l'arco e le frecce l'utilizzo dell'arco e delle frecce può esserci solamente se stiano determinate competenze la mira la tecnica l'abilità la freccia non è mortale devi poi devi lanciare la seconda spesso la terza la quarta te le devi fabbricare ogni freccia è diversa cioè ci sono tante variabili e dentro queste variabili si muove l'onore e l'abilità del combattente del guerriero la macchina no metti il colpo premi il grilletto parte il colpo è sempre uguale quasi sempre letale e infatti famosissima la scena in cui Chiuso va a prendere il fucile no? sceglie ad andare lui anche lì profondità di campo davvero infernale sembra che sta andando all'inferno con tutti i fuochi accesi e nel bosco e poi ritorna vincente che meraviglia però per colpa di un fucile morirà quando ormai sembra fatta quando dei 13 guerrieri che sono rimasti superstiti praticamente sono morti tutti rimane solamente il capo il capo che si è rifugiato carrello meraviglioso sta andando sempre più dentro l'intimità del villaggio anche le donne sono in sorte le donne e quindi si vedono i motivi per cui si combatte ecco nel momento decisivo bisogna mostrare le vite per cui si combatte devono stare dentro il film non bisogna semplicemente dire vogliamo salvare prendi appunti chi sai tu su come si fanno i film e come si fanno i combattimenti finali mi sto riferendo a un film recente che è stato acclamato come una specie di grande film a me è sembrato molto mediocre e quindi abbiamo il mefistofelico capo che esplode il primo colpo e poi il secondo e quindi i nostri due eroi cadono morte di chiuso vabbè uso del rallenty peccinpia noi volevamo parlare peccinpia a chi ha copiato perché spesso e volentieri abbiamo visto il cattivo che cade a rallenty mentre la caduta è alternata a scene che vanno invece a velocità normale se in peccinpia se ne ricorderà per il mucchio selvaggio e per l'uso del rallenty che fa nei suoi film quindi morte sotto la pioggia meravigliosa quindi caduta in avanti in mezzo al fango e poi abbiamo il nostro Toshiro Mifune che è colpito a morte però vuole andare fino in fondo e sarà lui a uccidere il capo quindi a compiere il gesto di onore supremo quindi la morte di questi due samurai stringe il cuore perché è una morte disonorevole loro che hanno che sono uno vissuto in nome dell'onore e l'altro che ha scoperto l'onore muoiono in modo disonorevole ecco ironia tragica amarissima che suggella perfettamente questa parabola magistrale che rimane davvero nella storia del cinema per la perfezione non solo della tecnica ma anche per la profondità dei contenuti trattati questo fondamentalmente è quello che mi andava di dire sui sette samurai capolavoro sul quale ci sarebbe ancora tantissimo da discutere e da parlare quindi la mia piccola analisi finisce qui mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto mettetelo anche se non vi è piaciuto ricordate di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre a aggiornare sui miei contenuti e soprattutto non dimenticate la cosa più importante che vi direbbe anche Akira Kurosawa e cioè petinatemi grazie a tutti